Non solo non ha nessuna intenzione di interferire nelle posizioni o nelle decisioni o nell'attività del suo successore, ma come ogni membro della Chiesa dice chiaramente che riconosce pienamente l'autorità del pastore supremo della Chiesa in colui che sarà eletto a succedergli. Quindi mi sembra un'espressione che in qualche modo potevamo prevedere che lui sarebbe stato in questo atteggiamento, però che lo dica e che lo dica in questo ultimo giorno del suo pontificato mi sembra molto molto bello per completare questa comunicazione dei suoi atteggiamenti e dei suoi propositi che ieri ha già fatto molto ampiamente.